Se sei una persona superficiale che non ha nessuna intenzione di mettere la testa e guardare dentro di sé a livello profondo e vuol proseguire a raccontarsela, non ha davvero senso che si venga a prendere in giro gli operatori. Se una persona non vuole fare un percorso introspettivo non accetterà mai quello che le dirò. Tanto vale davvero lasciare spazio per le persone che davvero vogliono lavorare su di sé. Credimi, le tue energie, le mie energie, soprattutto le mie energie, ma il tuo tempo, il mio tempo sono importanti, quindi è importante il tuo quanto il mio e viceversa. E quindi davvero se ti fa ridere guardare dentro, osservare dentro di te, non sei aperto a queste cose, sei una persona superficiale, dici ma io queste cose non ci credo, mi interessa, è inutile. Un conto invece quando si viene con assertività, molte persone anni fa sono arrivate con assertività, proseguono ancora a farlo, però con apertura e poi si sono ritredute e a loro volta hanno risolto i loro problemi e hanno inviato altre persone con passaparola. Io davvero però queste persone che sono così superficiali e non vogliono davvero fare introspezioni, ma che cavolo vengono a fare degli operatori logistici? Cioè è brutto da dire, ma veramente, ma con tutto il rispetto per loro, non prendiamoci in giro. Noi siamo dei professionisti, quindi non prendiamoci in giro. Sarebbe come andare dall'ortopedico e far finta che ti faccia male una gamba. Cioè, che senso ha? Oppure, anzi, dire mi fa male la caviglia, mi fa male il ginocchio, ma ha avuto un trauma e negare di averlo avuto. Ma allora che cavolo ci va a fare? Cioè, che razza di diagnosi avrà mai da un medico ortopedico se non gli dice la verità? Non è che non deve fare il frate indovino. Cioè l'operatore logistico, in questo caso io ho una grande sensibilità, una grande capacità introspettiva, ma non sono il frate indovino e comunque non ha proprio senso venire a prendere in giro gli operatori, oppure mettersi a ridere quando l'operatore o l'operatrice dice che ha visualizzato le cose, ha sentito delle cose. Cioè, se sei una persona così superficiale. A me fa tanta tenerezza, perché il giorno che lascerà la terra queste persone, poi quando scopriranno che cosa c'è, lasciamo a perdere. Prima o poi con se stessi bisogna incontrarsi. Sì, ma davvero, non entrare in questo discorso perché poi se è una persona superficiale che la faccia tanto mi riderà in faccia di sicuro, quindi non è un problema mio. Io sono certissima di dove sono, di dove sto, e davvero mi rammarica, mi fa piangere, vedere gente superficiale che guarda la vita in questa maniera. E' solo attraverso un'introspezione che si arriva alla profondità di se stessi a risolvere soprattutto le proprie problematiche, perché il corpo, fisico, mente, emozioni, anima è tutto collegato. Comunque, lasciamo perdere. Cioè, se una persona non è introspettiva, non è che mi metterò certo io a fare i sermoni. Poi ci sono dei cambi di vita, ci sono persone che mi raccontano che anni fa non sarebbero mai venute, e poi invece adesso guai, cioè, appunto, hanno risolto, guai per me arrivano e portano altre persone, cioè, non hanno una grande stima, sarebbero sempre disponibili ad aiutare lo studio cometa, a passare biglietti da visita, veramente a fare pubblicità, però è un lavoro che deve fare la persona, cioè, probabilmente la persona deve arrivare a sbattere contro un muro a volte per risvegliarsi. Comunque, al di là di questo discorso, un discorso molto filosofico, non ha senso davvero farlo. Se comunque la persona non è pronta e soprattutto non è abbastanza, non è accogliente nel lavoro di introspezione e vede le cose in modo ridicolo, è inutile davvero, cioè non perda tempo, non perda energie, cioè le mie energie sono preziose, io voglio dedicare tutte le mie capacità introspettive, la mia esperienza e la mia sensibilità a persone che meritano, a persone che davvero vogliono. Poi va bene, la guarigione la meritano tutti, tra l'altro ovviamente non in senso medico, ma la guarigione interno, spirituale, emozionale, animica, e ovviamente anche quella fisica, però le persone che vogliono davvero avere introspezione meritano e i percorsi danno tanto a queste persone. Cioè c'è sicuramente una persona che in ogni seduta porta tutto a se stessa, soprattutto la prima consulenza, che poi diventa già una seduta, cioè è una cosa spettacolare. come sia già possibile arrivare a carpire, che brutta parola, però a vedere dei nodi, proprio a percepire dei nodi in profondità. Ma se una persona non vuole fare lavoro introspettivo, ma cosa avviene a fare da un operatore olistico? Grazie per l'attenzione.